Salve, non credo che ci conosciamo. Sono Petrus di Torolund. Hai degli affari con noi? In caso contrario preferirei mantenere le distanze, se possibile. Salve, mi rendo conto di averti chiesto di mantenere le distanze, ma voglio anche che tu sappia che non lo faccio per inimicizia. Ecco, prendi questa, come pegno di pace. Su, coraggio, è per te. Oh cielo, ancora tu? Oh, ho trovato. E se... Devo comunque aspettare i miei compagni qui, perciò, se ti insegnassi qualche miracolo, ti farebbe piacere. Molto bene. Dunque, per prima cosa, un patto con gli dèi. Peccato, ma ad ognuno il suo. Vieni a parlarmi se dovessi cambiare opinione. Ora, permettimi di condividere i miei miracoli. La loro efficacia definitiva sarà però determinata dai tuoi sforzi e dalla tua fede. I miei compagni sono miledi e i suoi giovani cavalieri. Ella è giovane, ma porta il fardello di una missione dei non morti. Noi siamo i suoi protettori, per salvaguardarla dai pericoli. La missione dei non morti, purtroppo non posso mettertene a parte, ma in quanto apprendista, forse, se dimostri la tua fede. Molto bene. Di certo posso dirlo a te e fra tutti. Ai chierici non morti viene affidata la missione di cercare l'accensione. L'accensione è l'arte di nutrire i falò con l'umanità. Attraverso l'accensione ci verranno un giorno concessi magnifici poteri. Ho paura che sia impossibile, poiché le nostre missioni sono sacre. Torna presto. L'efficacia degli insegnamenti dipende dalla tua fede. Oh, salve. Ti insegnerò dei miracoli. Una promessa è una promessa dopo tutto. Oh, salve. Miracoli, presumo? Sì, lo so. Oh, e là. I miei ospiti sono finalmente arrivati. Partiremo insieme a breve. Perciò temo che presto ci dovremo salutare. È stato un piacere. Rea è la figlia più giovane del nobile casato di Torolund. Quei giovani cavalieri sono i suoi vecchi compagni di scuola. Ma non sono sicuro di cosa pensare di loro. Ho paura che possano essere una cattiva influenza. Oh, ancora tu? Io? Io sono stato separato da Milady. Ho perlustrato in ogni dove. Ma non c'è traccia di lei. Oh, dove potrebbe essere finita? Milady, è pensare che avevo giurato di proteggervi con la mia stessa vita. Vostra altezza, che fine avete fatto? Oh, la colpa è esclusivamente mia. Oh, me, Tapino. Sono indegno. Terribilmente. Oh, scusa. I miracoli, vero? Certe volte mi perdo nei pensieri. Non farci caso. Ah, oh, tu. Hai visto Milady? Oh, dannazione. Dove sarà mai? Spero che stia bene. Oh, ehi là. Hai parlato con Sir Lothrack. Splendido. Nelle profondità delle catacombe, Milady è scivolata giù dalla bara di un gigante ed è caduta in un baratro. I suoi due compagni non sono più umani e la ragazza piange sola, soletta. In questo momento potresti fare di lei tutto ciò che desideri. La povera piccola purosangue è completamente indifesa. Oh, sei tu. Hai soccorso Milady? Beh, è un peccato, perché non porterà a niente. La bella signorina non vale un accidente senza il nome della sua famiglia. Oh, per il Lord! Vile canaglia! Ne ho abbastanza di te! Assaggerai l'ira degli dèi! Oh, che c'è, canaglia? L'emozione ti ha fatto impazzire? E sia, sarai un bellissimo essere vuoto. Potete danzare insieme nelle profondità infernali. Imbecille, cosa avevi in mente? Ti è andata male? Sono un lupo travestito da pecora. Ti auguro buona fortuna come essere vuoto. Ha 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 ha! No! Non può essere. Non può finire così. Perché? Come è potuto? Ma che? Dove ho sbagliato?